Carlotta, una strana di serata, ci spieghi vicino a tutti questi gioielli? Questi gioielli sono dalla mia amica Domitilla Baffico, guardate che belli, guardate, pezzi unici, modelle uniche, scusate. Amiche uniche! Dove possiamo trovarle? Dovete chiamarle? Amica Clara, tu accolgo i suoi punti uguali, stiamo sempre... Contattate Domitilla Baffico tramite noi, siamo i suoi prestati. Quattro gioielli a Manhattan, banalmente, una gioielli a Pichino, una a Dubai, una a Mosca. Grazie e buona serata! A lei!